Continuano nel Salernitano i contagi legati ai rientri di residenti dall'estero. Sempre più i giovani positivi al Covid-19, quattro nelle ultime ore, due ragazze, una di Cave e una di Campagna, e due ragazzi, uno di Ravelle e uno di Rocca Piemonte. Intanto si susseguono le ordinanze, appello alla prudenza anche dal sindaco di Maiori, Antonio Capone, che suggerisce l'uso della mascherina anche all'aperto. Nel capoluogo partirà a breve la distribuzione gratuita da parte del Nucleo della Protezione Civile nei luoghi della Movida, dei presidi di protezione, con l'avvicinarsi del Ferragosto. Quattro le giornate previste questo weekend e il prossimo tra le 19 e le 24, più controlli in strada. Un'ambulanza e personale medico e paramedico per informare cittadini e turisti. Mentre il sindaco Vincenzo Napoli invita tutti alla prudenza, in particolar modo i giovanissimi, promettendo forze dell'ordine sugli arenili e nei locali. Intanto anche dal Covid-Center di Scafati, dove sono tornati i ricoveri, l'appello ai ragazzi è di stare attenti, l'emergenza non è terminata. Dal 19 marzo che abbiamo aperto, se non sbaglio, come data, ad oggi noi abbiamo avuto circa 400 accessi. Io dico preoccupiamoci, perché è preferibile preoccuparsi inutilmente, anziché sottovalutare un nemico che non conosciamo. Ai ragazzi dico, lo dico a mio figlio, agli amici, a tutti quanti, cercate di stare attenti. Io capisco che durante l'ora dell'aperitivo si sta vicino con il bicchiere, si sorride, ci si abbraccia, è difficile fare l'aperitivo con la mascherina. Fate un sacrificio, guardatevi la pelle, perché è più importante dell'aperitivo del divertimento. Nessuno ve lo vuole negare, ma state attenti.